Fra i ministri c'era chi aveva zerato le agende, nelle stanze circolavano persino gli scatoloni. Al tesoro si preparavano a presentare la legge di stabilità da demissionari. In 48 ore è cambiato tutto. È ripresa la corsa per rispettare l'inderogabile scadenza del 15 ottobre. Il Premier deve sistemare i problemi risolti. Resta innanzitutto da coprire la seconda rata dell'Imu. Nel PD si fa sempre più strada l'idea di farla pagare alle case di pregio e ai finti terreni agricoli. L'operazione potrebbe valere circa 800 milioni dei 2.004 miliardi di gettito previsto. Non sarà semplice convincere il PDL o quel che ne resta, visto che a Natale occorrerà comunque pagare l'aggravio per la nuova e costosa Tares sui rifiuti. C'è sempre da varare la mini correzione di 1,6 miliardi per rientrare dei parametri europei. Ma in questo caso sarà sufficiente la vendita di un pacchetto di immobili del demanio attraverso la cassa depositi e prestiti. La scelta politica più delicata è per il 2014, soprattutto quanto puntare sulla riduzione delle tasse sul lavoro e imprese. Poiché il taglio non potrà essere più importante di 4 miliardi, il ministro del lavoro Giovannini sta pensando a un intervento graduale ma selettivo, spalmato su tre anni e su diverse voci. Dalla riduzione del carico fiscale e contributivo al sostegno degli investimenti più innovativi. L'altra grana è la nuova service tax. Letta non può farla assomigliare troppo alla vecchia IMU, pena l'ira del centro-destra. Molto dipenderà da quel che si riuscirà a ottenere dalla spending review, dal taglio delle agevolazioni fiscali e dalla riforma delle aliquote IVA. Riforme non semplici e che metteranno alla prova i nuovi equilibri del governo de Berlusconizzato.